Liberarci dalla solitudine del fare, iniziando a chiederci chi sono io, per cosa sto vivendo, cosa sto costruendo nella mia vita, dove voglio andare, come voglio lasciare questo mondo e cosa voglio lasciare alle persone care, ai miei figli, alla mia famiglia, alla mia comunità, eccetera. Sono domande interrogativi che ci iniziano a far gustare la bellezza della solitudine, il bene che vi è nella solitudine. Perché, vedete, a queste domande posso rispondere solo io. Queste domande, che i filosofi di un tempo chiamavano domande interrogative capitali, quasi a dirci che sono il fondamento di una vita, di una vita costruita per la felicità, di una vita che ha la finalità della felicità, sono domande che noi possiamo certamente farci venire, attingere dalla sapienza umana, dalla stessa scrittura, dalla stessa fede, ma la risposta è solo e unicamente personale. Perché, vedete, c'è una bellezza della solitudine, c'è una solitudine bella, che anche se ci può incutere timore e paura, ma è bella, è profonda, è reale, è esistenziale. E sapete qual è? È questa. Che io, tu, ogni uomo, ogni donna di questo mondo, di questo pianeta, è solo dinanzi al mistero della sua vita. È solo dinanzi al mistero della sua esistenza. Non è un caso che, come credenti, e che l'insegnamento della Chiesa ci dice che l'uomo è un essere unico e irripetibile. Questo fatto che io sono unico nel mondo, e quindi in un certo senso sono solo, non deve, anche se spesso umanamente capita, farmi bloccare, farmi rinchiudere nelle mie paure, nella mia angoscia, ma mi deve appunto far sentire che sono un pezzo unico, sono un pezzo raro. E questa unicità, questa rarità, mi deve far sentire importante, perché vedete, quando io nella vita perdo il significato della mia stessa esistenza, quando nella mia vita non trovo un significato a quello che vivo, e quindi non mi sento più unico, non mi sento più unico, in questo senso perdo anche la responsabilità che ho di vivere e di affrontare i vari problemi, perché la solitudine positiva ci porta sempre ad un frutto, quindi un frutto buono, ma ci porta anche ad un impegno, cioè alla responsabilità. Le persone che vivono veramente il mistero della vita con solitudine sono persone che poi dimostrano responsabilità, impegno e consapevolezza nelle proprie scelte di vita, grandi, piccole, quotidiane o straordinarie che siano. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!